Svelato da Virano il progetto per la stazione TAV a Susa, a giugno sarà presentato anche il nodo di Orbassano. Due anni per fare i progetti definitivi, dal 2013 i lavori. Sarà pronto a fine giugno il progetto preliminare della nuova linea d'alta velocità Torino-Lione. Stamattina all'osservatorio di Mario Virano ha presentato il nodo di Susa, un'area di circa 3 km, con al centro la nuova stazione internazionale a Susa, là dove sorgono ora l'autoporto e la pista di guida. Alla stazione TAV di Susa fermeranno treni in arrivo dalla Francia, un ascensore collegherà la nuova linea a quella storica per deviare gli sciatori alle località sciistiche passando per Bussoleno. Una piastra fotovoltaica sarà in grado di fornire energia per 200 famiglie della zona. Con Virano stamattina in prefettura c'erano il presidente della provincia Saitta, il prefetto, gli assessori regionali Bonino e Ravelli. Il 7 giugno verrà presentato il plastico di Orbassano. Il progetto preliminare poi passerà all'esame di tutti i comuni e degli enti, due anni di tempo per fare il progetto definitivo. Dal 2013 per 10 anni la costruzione della nuova linea. Oggi i movimenti in ottave di Francia, Spagna e Italia hanno presentato al Parlamento europeo di Strasburgo un dossier contro le linee ad alta velocità. Grazie.